salve a tutti cari sconosciuti io sono ferir o se preferite melochi e mentre la mia misa si avvicina sempre di più alla mia reale estetica ed è estremamente inquietante fuori luogo vedermi combattere mostre e creature sempre con un post commentario vi mostro cosa rimane della gria da sbloccare in realtà c'è ancora roba però ci sono dei nodi bloccati da delle sfide che vanno le missioni urgenti missioni che vi mostrerò molto riassunte molto rapidamente ma che appunto mi permetteranno poi di raggiungere varie zone qui appunto però ci sono un paio di cosine che possiamo già sbloccare varie armi schematiche per per armi e poi vabbè tesorini vari soldi meteor shard la la diciamo che la griglia ancora non è completa ma parlo proprio del non di questo episodio proprio in generale del del gioco sicuramente un aggiornamento aggiungeranno l'ultimo avamposto ancora non non disponibile che si trova nella parte a destra della mappa speriamo anche insomnia però vi faccio vedere qualche missione rapidamente ecco questa ve la faccio vedere velocizzata perché il gioco è buggata merda e praticamente non apparivano i nemici come potete vedere è un bel 3.5 per il parecchio veloce potete tranquillamente farvi conti di quanto tempo è passato è stato veramente frustrante tra l'altro non ve lo mostrerò ma mi è capitato parecchie volte anche mentre non registravo che i nemici non apparissero durante le missioni una cosa frustrante da morire potete vedere appunto che che la gente non è contenta né io né negli altri insomma si aspetta ma evidentemente qualcosa non andava per cui alla fine ho deciso di andarmene di mandare a cagare però poi chiaramente ho riprovato alla fine finalmente questo nemico è uscito vedrete che vi farò una carrellata veloce dei nemici della delle delle sfide sono al momento tutti i nemici già presenti nel gioco base non per statistiche ma comunque per estetica movimenti attacchi sono assolutamente creature già presenti al suo senso perché comunque il mondo di gioco è quello però visto che ci sono le mutazioni qualcosina te la puoi inventare vediamo un po vediamo un po per esempio manca lo zoo ve lo spoilerò già adesso e lo zoo non è presente come nemico quindi magari nel prossimo nel prossimo la prossima aggiornamento magari lo aggiungeranno perché già il king behemoth è presente quindi non so quanti altri amici manchino non tanti in realtà forse nessuno non ho presente il bestiario a dirle la verità però c'è una buona varietà infatti voglio mostrarvi queste missioni appunto per farvi capire che le varie aree di sfida che ogni tanto si ripetono per carità ma sono sono quelle della mappa però appunto sono molto belle e poi proprio per il fatto che sono vere e proprie arene è molto più facile combattere non il problema della telecamera sono quasi assenti qui vediamo appunto dei molboro già erano era più di uno però sono già andati giù questo era l'ultimo e devo dire che finalmente il molboro ha avuto anche la sua la sua parte di gloria perché non è difficilissimo da sconfiggere però è un po' rognoso soprattutto quando ti prende con l'alito fetido e poi c'è questo bellissimo piatto che si fa con i tentacoli di molboro gnam gnam non vi viene voglia proprio di papparvelo così fumante che poi non capisco perché ha le ha le stelle ventose visto che molboro non ha le ventose ma non vogliamo sapere le perversioni sessuali dei giapponesi potete ben immaginare questa missione invece ve la mostro perché come vedrete ecco e succede un bug e niente il boss è morto il boss è morto è caduto è caduto in geodata e probabilmente non appaiono sono i nemici ancora perché al momento sto tirando indovinare il boss sta precipitando nella mappa perché la mappa è sviluppata anche in verticale anche sotto la mappa sotto la linea su cui noi camminiamo quindi probabilmente sta precipitando poi è morto e sono apparsi gli altri nemici e vabbè succede mi ha fatto troppo ridere questa cosa e sono contenta di averla registrata un paio purtroppo me le sono perse mi dispiace anche con lo share non ci ho pensato i corl i corl in questo gioco sono rotti i corl sono rotti letteralmente e più che altro gli elder corl i corl ancora ancora sono sostenibili fanno sempre questo contrattacco tremendo che io continuo a non leggere e continuo costantemente a rimanere buttata per terra proprio sciotta sciotta maledetti perché non capisco quando è un contrattacco in cui si stanno curando e li devo bloccare o un contrattacco in cui non devo colpirli cioè dipende dalla mossa che fanno però insomma io i corl li odio li odio non li sopporto ne abbiamo già discusso non li sopporto però appunto qui vi faccio vedere che ho già sbloccato un paio di roba quindi rapidamente vi mostro appunto i vari sigilli che si sbloccano come ho già detto in un altro episodio non tutti i sigilli sono attualmente disponibili non mi ricordo sono 6, 5, 6 o 7 quelli disponibili forse 6 con quella metà praticamente diciamo un 50% di quelli totali e sono molto curiosa di vedere dove e come si troverà il sigillo del Regis The Father vedremo vedremo non voglio farmi illusioni però nel mio curicino spero che vedremo insomnia anche perché vi spoilerò già adesso se non l'ho già detto non ricordo comunque lo ripeterò in ogni episodio non è detto che li guardiate tutti che nei titoli di coda finali mi è stato detto che è presente sia Luna Freya che Ardyn ho avuto conferma perché attualmente il gioco io l'ho finito anche se sto facendo l'audio soltanto adesso però non appaiono nel DLC quindi bisogna un attimo capire ma non parliamo adesso di questo stiamo appunto sbloccando la varia roba nella griglia lo capisco che non è particolarmente esaltante ma vi assicuro che vi sto condensando in 20 minuti almeno 5 o 6 ore di gameplay quindi apprezzate lo sforzo anche soltanto di rivedere tutta la roba e di tagliarla però abbiamo sbloccato appunto un altro avamposto si fa capire comunque che fra i cacciatori Crownsguard e Glaive non corre buon sangue avrei preferito un approfondimento ma così non è stato nel mentre mi compro il vestito di Kenny è impossibile non comprarlo e si va nel nuovo avamposto finalmente che in realtà è molto 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 figo tutti gli avamposti sono fighi anche se avrei voluto più interazione però insomma già qui abbiamo recuperato tutti i rifugiati per cui possiamo eleggere il leader è già capitato in passato in base al leader che si sceglie che è definitivo per la partita si resetta solo con New Game Plus si ottengono dei bonus in questo caso abbiamo Bigs e Wedge che ci danno donazioni di Jill o uno sconto sugli articoli imperiali che è una minchiata perché comunque li compri una volta non li compri più quindi non importa oppure il trading post opening che io senza sapere ho scelto ma a quanto pare comunque era la cosa migliore perché ti permette di acquistare o meglio di scambiare delle armi con dei oggetti esattamente come l'avamposto di Cotes mi pare sia e insomma si possono ottenere delle armi rare che poi possono essere potenziate in maniera figa eccetera il soldato Magitech ci vende appunto vabbè equipaggiamento imperiale armi e degli oggetti ucidi per potenziarci e poi vabbè il set imperiale tra l'altro io non me ne ero accorta mai ci sono volute tipo 300 ore di gioco fra comrades e il gioco base per rendermi conto che i soldati di Bigs e Wedge e Aranea hanno effettivamente un'immagine uno stemma un freggio diverso sull'armatura che è rilevante perché Aranea tanto rompe le balle ma comunque intanto sempre i cyborg lobotomizzati usa per combattere mutanti qui l'avamposto dei cacciatori è quello dove c'è più roba di personalizzazione comunque oltre alla roba imperiale tracconciature tatuaggi interi set e poi c'è il set da Hunter ovviamente gli occhiali da sole fighi Ray-Ban wow si può soffrire la roba però io rimarrò fino alla fine con questo stile casual molto realistico e appunto qua le armi di cui vi parlavo che sono al momento le migliori non queste però possono essere potenziate fino a un buon livello e raggiungere delle combinazioni interessanti però appunto servono degli oggetti con cui scambiarle mi manca ancora il platinum ingot tra l'altro mi manca la Yoshimitsu qui vediamo appunto il bellissimo ciocobino nero che si è salvato prendi sono salvati tutti tranneggiare sono tutti vivi persino le rane di Sania sono ancora vive anche Sania è viva sono quasi sicura che la lettera sui Nidus che abbiamo recuperato è di Sania questo minigioco è un'idea carina vagata come la merda e poi vedrete in pratica si ha un limite di tempo un limite di opportunità si può scegliere la zona in cui picconare si ottengono degli oggetti che possono essere merda come possono essere utili va da sé che ottenere Meteor Shard in questa maniera è assolutamente inutile perché sono dei quantitativi ridicoli e si fa molto prima facendo le missioni ma all'idea di massima qualunque cosa di Meteor Shard ha soldi che non è una missione è una perdita di tempo proprio perché conviene farsi le missioni assolutamente danno troppi altri bonus le missioni di fare esperienza oggetti Jill Meteor Shard e così via comunque state attenti quando selezionate due volte allo stesso punto per minare aspettate un po' perché se lo fate troppo in fretta si bagga tutto spero venga sistemato ma ve lo dico non picconate allo stesso posto se non aspettate almeno un paio di secondi perché si potrebbe baggare la qualunque qua mi è piaciuto da morire vedete già comunque che hanno un fregio diverso non so se si vede dal video ma hanno un drago appunto perché fanno parte della squadra speciale di Arena quanto mi guardano male ovviamente Biggs e Wedge non facciamoli parlare non facciamo caratterizzazione a questi personaggi quanto sono belli i behemoth di questo gioco porca putta vabbè questo tra l'altro è un behemoth mutato io me ne ero accorta nel test online che erano un po' strani questi behemoth erano tigrati però appunto si hanno una mutazione però è una mutazione blanda comunque non sono i king behemoth ecco e poi niente qua vi farò vedere una carrellata di massacri in linea di massima di creature giusto per farvele vedere un po' per farvi vedere comunque la buona varietà perché ripeto Comrades ha tanta roba ha dei problemini tecnici che vanno risolti i caricamenti i bug schifosi dei tempi morti evitabilissimi però l'IA è imbarazzante ma quello si sapeva già insomma quella di Final Fantasy XV però dà le sue soddisfazioni è divertente abbiamo anche le viverne non se ne è fatta mancare nessuna insomma e come vedete appunto le mappe sono belle e c'è anche un buon dinamismo negli scontri perché ci sono i warpoint quindi ci si può teletrasportare sia per ricaricare i mp che comunque per fuggire dalla battaglia e spostarsi rapidamente comunque a livello tattico offre tante possibilità come gioco proprio con la scusa dei o la magia e i superpoteri veramente figo qui abbiamo anche il grifone mi ricordo quando l'ho incontrato nel gioco e c'era ma che cazzo c'era sto coso che volava qui ce lo si aspetta anche se mi è sembrato un po' sottotono questo grifone rispetto a quello del gioco sicuramente farà i stessi attacchi però a me non ha mai fatto la presa vedete è finito per terra molto rapidamente aveva una squadra abbastanza in gamba e quindi niente povero grifone mentre ci rimbalza sopra vabbè sì queste cose insomma succedono sempre l'estetica dei nemici è fantastica l'estetica delle creature c'è una cura a me piacciono veramente tanto il bestiario di Final Fantasy XV mi piace è estremamente limitato però poco ma buono poco ma buono anche se a questo punto visto che i soldini li abbiamo dati potrebbero smuovere un po' il culo qui vi mostro i bug di cui vi dicevo quando hai fretta e premi troppo in fretta allo stesso nodo succede questo e non si può fare niente non si può interagire il personaggio è bloccato non puoi muoverti e resti così anche fuori e l'unica maniera per farcela per risolvere è chiudere l'applicazione perché non puoi neanche aprire il menu per uscire e tornare al menu principale bello no? fa figo ma vaffa il culo ma pacciate sta cosa perché fa schifo veramente 20 euro e qui compriamo visto che abbiamo sconfitto il grifone abbiamo ottenuto la piuma di grifone possiamo comprare la lettera senza indirizzo che è una lettera potete mettere in pausa e leggervela comunque fondamentalmente è una lettera che scrive Libertus all'eroe l'eroe era il modo in cui lui chiamava affettuosamente Nix e fondamentalmente è quello che già sappiamo ovvero dice che è andato a Galad solo che è stata arrasa al suolo tra demoni impero e bordello e quindi è tornata indietro adesso è all'estalo e mi chiede a Nix di andarlo a trovare praticamente qua vi faccio vedere le parti inquietanti che mi sono trovata veramente terrificante però comunque è carino che questa lettera in realtà non è mai stata spedita quindi un po' come se lui l'avesse scritta e poi non l'avesse mai spedita secondo me non è da escludere che Nix si riveda nel gioco non è detto che lo facciano morire sono capacissimi di ripescarlo l'hanno messo nel gioco base e probabilmente lo metteranno pure in Comunas me lo sento magari mi sbaglio ma me lo sento nello stomaco io preferirei fosse morto però vedremo qui vabbè vi faccio vedere tra l'altro questa è la zona di Chocobo il Chocobo Post stringe un po' il cuore a vederlo in queste condizioni però qui ancora c'è la luce la vera merda ancora non è successa la merda vera succede post credit e non te la fanno vedere qui ancora c'è la luce comunque c'è vabbè un brutto momento ma ancora sostenibile infatti io non capisco sono passati sei mesi sono così ma l'unica giustificazione che si può dare è che effettivamente magari la vera oscurità sia arrivata e sia durata poco perché altrimenti il mondo non sarebbe sopravvissuto per quanto lo si possa giustificare comunque certi cataclismi tra abbassamenti della temperatura cose insomma si è magico si possono giustificare in cento modi certe cose però ma comunque sono stati bravi alla fine devo dire che il giochino il sistema del glaive è tutto è stato integrato molto bene ne parleremo nel finale qui vi faccio vedere un altro nemico il budino oscuro classico nemico dei Final Fantasy duro come la merda tra l'altro in realtà è molliccio come la merda però insomma ci siamo capiti è difficile da buttare giù un po' di texture bidimensionali che si muovono tutte vibrando qualche baghetto adesso riappare si riappare il corpo coccatrici guardate il pucci di grassi questa cosa ve la faccio vedere perché vi faccio vedere un'altra maniera molto simpatica di finire le missioni esattamente come noi quando usciamo dall'area di gioco da missione fallita se il nemico esce dall'area di gioco passa per sconfitto quando è successa questa cosa ho riso tantissimo il nemico non è stato ucciso è stato spinto fuori dall'area di combattimento e la missione è risultata fallita ma mettete un muro invisibile per i nemici porca miseria qui abbiamo che si chiama un Kezalcoat mi pare sia non mi ricordo come si chiama il gioco si è un nemico che si trova in quel misterioso tempio magico con l'acqua sotto sopra che dovrebbe secondo me essere un tempio di Leviathan ma la cosa non viene minimamente citata quindi vabbè un tempio a caso dove si trovi un pezzo di mithril al centro della stanza manco dentro una statua una roba a caso e qui un'altra creatura che troviamo in un dungeon nel Jabberwock come caspita si chiama qui ne troviamo un paio comunque vanno giù che una meraviglia e droppano i Dragon Horn tra l'altro sono estremamente utili per potenziare le armi anche se un droppo raro però sono abbastanza semplici da battere comunque non fatemi intimidire dai livelli delle missioni comunque in genere le missioni si possono fare almeno anche con dieci livelli sotto il livello raccomandato mi è apparsa Cindy mi raccomando Cindy fammi le tue insalatine di merda non dire a tuo nonno di darmi una mano con le potenziamenti delle armi sono a 60 ore di gioco non in questa registrazione ma nel momento in cui sto registrando io quest'audio si mi è apparso una sola volta quando ero di livello troppo basso per sapere come risolvere questa ve la faccio vedere a 3.5x di velocità fate molta attenzione al drop vedete quante volte sta droppando il nemico in basso a destra sopra la schermata dei personaggi ve la faccio vedere tutta questa è una cosa che accade molto spesso la missione si chiama Ghost in the Machine vi consiglio di farla prima che la pacino può capitare molto spesso mi capita veramente di frequente che il drop si imballi e continui all'infinito finchè la missione dura tra l'altro il nemico si era completamente frizzato come vedete non si è mosso più quindi l'abbiamo continuato a picchiare ma non si muoveva non reagiva non sparava non faceva nulla non credo sia normale perché non l'ha più fatto però rendetevi conto guardate i drop guardate i drop quelli sono tutti drop veri cioè non è che si ripete sono realmente oggetti che io recupero e niente succede anche questo per questo vi dico e vedete già ho finito ho finito spazio alimentario ne ho 99 per questo vi dico fate questa missione prima che la pacino però che la pacino presto perché e poi guardate si era imballata perché c'erano ancora nemici e anche se il boss era stato sconfitto la missione non terminava la missione non terminava in teoria era finita e io continuavo a droppare no fantastico quindi fatela prima che la pacino però spero che la pacino perché perché è imbarazzante troppo spesso le missioni non vanno avanti e non è possibile non multiplica già dei caricamenti troppo lenti quindi no squirti prego quindi questo come vedete non me lo sono inventato anche gli altri erano molto perplessi no problem si esatto io solo ho scritto io si continua a droppare cioè rendetevi conto ogni tanto un laser sensor e laser sensor sono una mana dal cielo e quindi questo bene io spero che questo video vi sia piaciuto vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo ci vediamo ciao se questo video ti è piaciuto o ti è stato utile prendi in considerazione la possibilità di dimostrare il tuo apprezzamento lasciando un like e un commento inoltre in descrizione al video troverai il link a Ko-fi un sito attraverso cui è possibile offrirmi un caffè o più di uno sia con paypal che con carta di credito anche in questo caso però mi farebbe piacere che i campi facoltativi di nome e commenti fossero compilati così da sapere chi ringraziare e cosa pensi del mio lavoro va da sé che qualsiasi tipo di supporto sia esso verbale o economico è sempre benvenuto detto questo grazie ancora per l'attenzione e al prossimo video grazie a tutti